E' una bellissima giornata! E' una bellissima giornata di primavera su Catacrom 4, Juanita! E siamo pronti a dare inizio a una nuova stagione di Dreadzone! Proprio così, Dallas! E da qui potremo goderci un'ottima visione d'insieme dell'azione! Anche da quassù i percorsi di guerra di questa stagione di Dreadzone sembrano più grandi e più letali che mai! E' incredibile che ci siano ancora dei volontari pronti a partecipare, vero? Incredibile! Sì! L'impresa di costruzioni Pox ha superato se stessa nel trasformare quello che un tempo era un terreno sacro di sepoltura dei robot in un letale percorso di guerra di Dreadzone! E ora, ecco che arriva il primo combattente di oggi! Oh cielo! Stanno proprio raschiando il fondo del barile per trovare questi concorrenti, vero? Spero che i nostri spettatori non siano impressionabili, perché il primo avrà ben poche speranze! Senti questa chicca! In modalità sfida, puoi comprare modificatori di base dal negozio di armi! Il primo obiettivo di Ratchet è semplicissimo, Juanita! Tutto quello che deve fare è raggiungere l'altro lato di questo passo montato! Gli scudi su quella torretta sono impenetrabili! Dovrai usare un E.M. Piperdis! Sai, a volte penso che avrei dovuto accettare il lavoro a Annihilation Nation! Hanno un'ottima assistenza sanitaria! Il team Dark prosegue verso il cimitero di Katachrome! Dovrà attraversare quello che mi piace chiamare il baratro dell'infinito cadere del probabile crepare! Nella remota di Katachrome! Prenderanno il controllo del detale e mastodontico cadu armato Land Soldier e Mokaloo! Ratchet, dovrai conquistare tre nodi per estendere il ponte! Dovresti provare lo scudo remoto! Premi il tasto direzionale destra per ordinare a un bot di creare uno scudo intorno all'altro! Ratchet, per estendere il ponte! Usa la manovella del nodo! Qualcuna cosa interessante! Il team Darkstar sta camminando su un cimitero di robo giganti! Ratchet, puoi espandere la tua mappa in qualunque momento per avere una migliore visione dell'area! Vi siete mai chiesti quali sono gli ingredienti della salsa speciale? Ratchet, in base a quanto richiesto dal regista di Tredson sul radar i nemici saranno di color rosso gli alleati verdi gli obiettivi delle sfide uno dei tuoi robot da combattimento è stato distrutto usa il comando Rianima per riportarlo in vita il team Darkstar è in grande forma oggi! Spillare Giovino Chiari Empredo Oh, non era male. Ratchet, ho rilevato una sfera Swingshot nelle vicinanze. Salta verso... Attenzione, amici! Ratchet ha appena trovato il Land Stalker! Ratchet, ho rilevato una sfera Swingshot nelle vicinanze. Ratchet, devi usare i mortai del Land Stalker per distruggere quelle sfere Quasar. Così aprirai la strada. Il Team Darkstar sta distruggendo tutto! Ratchet sembra a suo agio sul Land Stalker. Non oso immaginare la richiesta di rimborso danni che riceveremo a Dreadzone dopo questa puntata. Ragazzi, ricordatevi che domani è la giornata Prendi a Calci nel sedere un tuo amico! Popcorn gratis a tutti i partecipanti! Ratchet, non è vero! Gente, che pavolosa carneficina! Ma ora è giunto il momento dello scontro finale nel cimitero di Katakron! E nessuno sa quali creature si aggivino fra quelle due. Ratchet, devi sconfiggere tutti i nemici per completare la sfida. Insomma, rimani vivo. Punterò dal sottosuolo! Ehi, verde! Quello zombie somiglia a tua madre! Un'informazione sul Ratchet. Gli dai un dito e lui si prende il braccio. Anzi, tutto il corpo. Sarai meglio a credere in qualità. Ottimo lavoro, Ratchet. Devo ammettere che ero preoccupato. In ogni pianeta è presente una serie di campagne che devi completare. Ma anche alcune sfide dread che puoi scegliere. Ratchet dovrà correre e battere il cronometro. Ogni checkpoint superato gli farà guadagnare secondi extra. Team Darkstar! Accendete i motori! Non dimenticatevi di ordinare il gioco da tavolo di Dread Zone. La tua classifica di Dread. È il momento di salire a bordo del Land Stalker. Hai buoni fin nemici. Ricordate, non fate queste cose a casa. Fatele a casa dei vostri amici. Dai un bel chilometro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, forza! Qualcuno vuole uccidere quel piccolo ammasso di pelo? Grazie a tutti.